Come scaricare così la nuova versione di Windows 11 24 H2 o aspettiamo direttamente che esca sull'aggiornamento di Windows, il nostro Windows 11, oppure possiamo direttamente installare questa versione manualmente e mantenendo tutti i nostri file proprio come stanno, però aggiornando la versione. Io ho la versione 23 H2 quindi non mi resta che passare alla versione 24 H2 di Windows 11, quindi vai sotto fino a trovare, crea il supporto di installazione per Windows 11 e vai su scarica ora, una volta fatto clicca su quel download che è scaricato e aspettiamo, facciamo accetta. Lingua Italiano edizione Windows 11 Usa le opzioni consigliate per questo PC, facciamo avanti O lo scarichi sulla chiavetta USB oppure facciamo un file ISO File ISO da scaricare sul nostro computer Desktop e scrivo Windows 11 Faccio salvo Una volta fatto non mi resta che andare direttamente su questo ISO e faccio fine Ora cosa bisogna fare? E' un file ISO che possiamo estrarre con il programma WinRAR Il programma WinRAR ha questa icona qua Quindi tasto destro sopra Quindi tasto destro sopra WinRAR e stai file in Windows 11 Una volta fatto Una volta fatto prendo la cartella Ed eccolo qua Clicco sul setup di Windows 11 Faccio sì Scarichiamo così Scarichiamo così L'aggiornamento Travele funzionalità Facoltative Facciamo questo Vai avanti Voglio contribuire a migliorare l'installazione Faccio avanti Facciamo accetta Dopo che ha fatto la verifica degli aggiornamenti In questo caso andremo poi a vedere pronto per l'installazione Quindi installa Windows 11 Pro Mantieni i file personali e le app Ora come funziona? Se andate a cliccare su cambi elementi da mantenere Poi farà un lungo caricamento E se fate avanti continuerà a fare il caricamento Quindi in questo caso Tieni installa Windows 11 Pro Mantieni tutti i file personali e le app Tutto Manteniamo proprio come sta sul mio desktop Una volta fatto Devi solamente cliccare su installa Ed eccolo qua Installazione di Windows 11 in corso Alla nuova versione 24H2 Poi una volta fatto Dobbiamo aspettare un paio di minuti Se lo tieni su un SSD o un M.2 Sicuramente ci metterà 10-15 minuti Ma se lo tieni su un hard disk Ci metterà parecchio Molto parecchio 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 Quindi Aspettiamo Una volta fatto Questa è la nuova versione di Windows 11 Poi vai direttamente su Verifica disponibilità Aggiornamenti Ed eccolo qua Aggiornamento accumulativo per Windows 11 versione 24H2 Sistemi basati su 64H2 E quindi L'aggiornamento lo sta facendo Quindi sta scaricando Lo installi Riavvia il sistema E hai fatto Hai la tua nuova versione di Windows 11 24H2 Per altri problemi ancora Puoi commentare sotto il video E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao